Salve a tutti giovanotti, benvenuti in questo nuovo video, io sono Startup Stracor. Oggi andremo a parlare delle pozze del riflesso, che sono queste pozze gialle che si possono trovare all'interno del mondo di gioco e all'interno ai verchi normali. Queste pozze si chiamano fonte del riflesso e cliccandole ti danno un buff che per metà della barra ti garantisce il 25% di esperienze in più ottenuta. Ovviamente, se la vostra barra di esperienza è meno della metà, l'altra parte della pozza vi arriverà, penso, fino a qui. Quindi continuerà, non la perdete, state tranquilli. Questa fonte di solito si usa quando si vanno a fare barchi maggiori oppure quando si va alla ricerca di pozze per aumentare l'esperienza. Queste pozze sono degli oggetti di gioco che vengono usati di solito in endgame, in cui il livello d'eccellenza sale a livello molto molto lento. E queste pozze riusciamo a sfruttarle in modo migliore. Ci sono tanti modi veloci come ottenere queste pozze. Uno è cercare ovviamente delle mappe, per esempio questo è il regno del Fatinfranto, in cui si possono trovare molto facilmente le pozze. Per esempio qui, in tutta questa linea, anche da questa parte. Qua c'è un punto, qui un altro e qui ce ne sono altri tre, in cui possono sponare. Poi ci sono altri punti, come in atto 1, corte nel maniero di Leoric e anche nella riserva di caccia, che qui non si vede, però appena uscite fuori dal maniero, qui c'è subito la scritta riserva di Leoric. Un altro può essere il Tempio Sommerso, entrando nel Tempio ci sono due posti in cui si possono trovare queste pozze. Il foresta putrescente dentro i due dungeon. In atto 2, invece, si possono trovare sulla strada di Alcarnus, alto piano urlante e alcune volte eventi sferzanti, però vi conviene cercarli in questi due posti, che sono i posti in cui ci sono più spot, in cui possono sponare le pozze. Invece, atto 3, in cui vi posso anche far vedere, se andiamo a campi di battaglia, adesso un attimo che qua i mostri non mi vogliono tanto bene. Se andiamo ai campi di battaglia, come dicevo, e andiamo verso sinistra, abbiamo due posti in cui possiamo trovare le pozze, che uno è questo, dove c'è adesso il santuario, siamo stati sfortunati, e qui un altro in cui non c'è niente, però sono due punti vicini, quindi conviene con il partita li scautate, li andate a vedere. Un altro punto è il ponte di Corsic, in cui c'è uno spot qui dietro e uno più lontano, tornando indietro, però questo è quello più vicino, quindi tanto vale che entrate qua in mappa, state sul webpoint, vedete se qua c'è qualcosa, e andate al prossimo spot. Qui, attraversamento di racchi, c'è uno spot qua sopra, e ce ne sono due qua sotto. Ce ne sarebbero anche andando più avanti per tutta la strada che poi vi porta verso l'Obsessor. Però, secondo me, conviene cercare solamente in questi posti qua vicini, non andare troppo lontani, perché sennò è tempo perso. E c'è Torre dei Maredetti, qui c'è un punto, qua sopra, e ce n'è un altro qui. Questi sono gli unici due spot che ci stanno in questa mappa, e sono vicini, relativamente vicini. Un altro Torre dei Maredetti, qui c'è uno spot che in questo caso c'è un pilone, e qua c'è un altro in cui non c'è niente. E anche qui tutto molto vicino. In atto 3 abbiamo finito di spot vicini. Qua ce ne sarebbero alcuni in atto 5, però non sono convenienti perché sono troppo lontani. Oltre ovviamente a cercare le pozze nel mondo di gioco, ci sono altri modi per avere queste pozze. Un esempio possono essere le alabarde bovine. Adesso qua ce ne sono due primal, però le tengo per sport, per collezione. Se ne andiamo a mettere una alabarda bovina dentro al cubo di canai, la mettiamo dentro. Se è antica, normale o primordiale non cambia niente, il risultato sarà sempre lo stesso. Non è come il milione di The Goblin. Adesso la apro, gli oggetti nel cubo saranno cancellati e distrutti, va bene. E ci fa entrare nel varco muccoso, in cui abbiamo questo boss molto buffo, che è la regina bovina. Questo è un varco che ha le mucche. È un varco pieno di mucche. Come vedete qui abbiamo trovato una pozza subito. In questo livello bovino possiamo trovare solamente due pozze a partita. E quando apriamo questo livello non possiamo aprire un altro. Come l'anile di The Goblin che dopo QC di Brahma, dopo 30 secondi, dopo un minuto, si richiude e poi aprire un altro. Se siete in quattro, scatate velocemente la mappa e trovate subito, perché sono solamente due e non dovete girare più di tanto. Alcune volte può uscire il layout, che è molto grande, il layout intendo la mappa. Alcune volte è piccola. La peculiarità di questa mappa è che oltre alle pozze che si possono trovare, ci sono tante casse che a Tormento 13, oppure ancora meglio Tormento 16, vi daranno molti leggendari. Questo qua è andato con Tormento 4, vabbè, fortunello io. E' anche buono nel caso volete livellare qualcuno molto velocemente, perché le mucche danno molta più esperienza rispetto agli altri mob. E questo tipo di mob, se siete fortunati, lo potete trovare anche nei barchi normali, che è proprio un barco specifico fatto apposta per questo tipo di mob, in cui vi farà entrare in una mappa che sarebbe la cripta di Atto 1. All'inizio vi farà andare in un incrocio, in cui dovrete fare un evento, in cui dovete uccidere più mucche possibili, che adesso non credo vi dia vantaggi, però vi apre la via per la continuazione del rift. E come boss avrete il re dei campanacci, si chiama, che sarebbe la mucca che avete visto all'inizio, solamente con un nome diverso. Invece qui cosa abbiamo? Abbiamo il fantasma del rebobino, che ci dirà di cos'è di mungere a fondo questa situazione. Ottimo. E questo è un evento che ovviamente ci darà delle mucche da uccidere, e dopo aver ucciso queste mucche, ci ricompenserà con 4 casse, che sarebbero le casse degli eventi ceste maledette, che ci possono dare sia pezzi di completo che gemme, oro e risorse. Adesso qua non c'è una sega di danno, quindi salutoni, ci vediamo tra poco. Eccoci qua. Dopo aver ucciso tutte le ondate, ci ricompenserà con 4 casse, che si chiamano forse radioso, che sono le casse delle ceste maledette, come dicevo prima. Adesso qui siamo a tormento 4, però ci danno un po' di gem, qualcosa, ma cioè non conviene che usate il vostro tempo per fare questo evento. Magari a T16 da qualcosa di interessante, però con tutte le casse che ci sono per tutta la mappa, non penso che ne valga assolutamente la pena. Adesso vi cerco la seconda pool, che in inglese si chiamano pool, perché tanto delle pozze rosse non ci interessano, perché le pozze rosse danno solo... eccola qua. Le pozze rosse che abbiamo visto poc'anzi ci danno solamente vita. Penso ci dia il 100% della vita, adesso non ricordo, ma sono completamente rilevanti per quello che ci serve. E questo è quanto per il livello bovino. Però un altro modo veloce per trovare pozze è un altro. Perché il problema della labarda bovina è che tu puoi trovarne solamente due a partita. Ogni volta che vuoi aprire un'altra labarda devi uscire dal game e rientrare. In un modo più veloce però dovete fare la storia, fino all'atto 5 con la missione Angelo della Morte. E ogni volta che voi entrate in questo game dovete cliccare sul capitolo 8 dell'atto 5, Angelo della Morte, cliccare ok. Sì sì, voi confermate, state tranquilli. Facciamo avvia partita. Questa è una missione in cui dovete per forza fare la storia oppure potete farvela passare da altri. Nel senso che magari voi entrate nella partita di un altro vostro amico che ha già sbloccato la storia fino a questo punto. Voi andrete a parlare con l'incantatrice. Adesso qua io ho già parlato con l'incantatrice, però vi usciranno tanti dialoghi per l'incantatrice. E voi dovrete sentirli tutti. E dopo averli sentiti tutti, vi uscirà un discorso che si chiamerà Voci Familiari oppure Una Voce, se non sbaglio. Vi uscirà questo evento. Voi farete Accetta. Non lo dovete completare perché se no non lo potete più fare. E in questa mappa potete trovare dall'1 alle 4 pozze gialle. Ecco, vedete, lì ne abbiamo una. La prendiamo molto volentieri. E qua dovete solamente scautare le mappe. Se non sbaglio, di pozze in generale ce ne dovrebbero stare o 6 o 8 totali. Se siete in 4 è molto più facile scautare. Questa sarebbe la mappa che potete trovare in atto 5 uccidendo il guardiano del portale, penso. Però ovviamente andare lì, andare in atto 5, trovare il boss che fa aprire questo varco, non ne vale la pena. Qui l'abbiamo trovata una, però voi potete fare subito esci dalla partita. Aspettate 10 secondi oppure andate in città per togliere il cooldown e per uscire istantaneamente. E se volete rientrare in questa modalità, basta che andate su Impostazioni, Cambia, Angelo della Morte, Capitolo 8, Ok, Ok, e via partita. E potete farlo quante volte volete. E nel caso voi avete una classe che la giocate support, vi conviene fare questa cosa. Perché tanto in teoria non dovreste mai morire, però comunque come vedete io rientro, mi ridà la stessa quest e la mappa è sempre la stessa. Ovviamente le pozze cambiano. Le pozze, la yacht e la mappa cambiano. Magari se voi giocate di EPS, magari per esempio fate le run speed con i maghi, con il Virshan Todo, oppure le run con i Ratma, con i Necromanti. Se il vostro bava e il vostro Necromante sapo non vi fanno morire, potete usare questo modo per fare l'esperienza. Perché comunque è un 25% di esperienza per il tempo che avete la pozza. Che è molto utile. Penso che questo sia tutto ragazzotti. Io vi ringrazio per aver visto questo video. Vi ricordo che in descrizione c'è il mio canale Discord. E non il mio canale Discord. Il Discord della comunità Upa di cui io ne faccio parte, in cui ho creato uno spazio per Diablo 3. In cui ho messo e continuerò a mettere delle guide per le varie classi, per i varchi maggiori e delle guide per i novizi. Io vi ringrazio di nuovo per la visione. In descrizione pagina Facebook, canale Twitch e Discord della comunità Upa. Ci vediamo al prossimo video guide su Diablo 3. Ciao belli, statemi bene. Ciao ciao ciao.